Sai cosa succede se fai un abbonamento 3? Oh, non so. Che succede? E ti danno anche il G3, il top della tecnologia. Ma è quello nuovo. Sottile. E la batteria dura fino all'infinito. E' l'unico con i tasti dietro. Lui ha fatto l'abbonamento, io la ricaricabile. Ma veramente? Passo a 3. Passa a 3 con Top Unlimited e il nuovo LG G3. E hai la nuova ricaricabile Olimuan con minuti e sms illimitati, 2 giga di internet, a soli 10 euro al mese. E dai, stasera andiamo a cena insieme, no? Unlimited ti chiamo. Unlimited. Vieni nei 3 Store.